Oggi è un giorno triste perché se ne è nata una persona per bene, preciso sul lavoro, un grande professionista che ci ha imparato un po' a tutti e io gli devo molto, anzi, tutto, che pur essendo fio d'arte del mitico venticello, papà mio purtroppo se ne andò via troppo presto per poter imparare mestiere e per fortuna ci pensò Cesare a Piammesotto dalla sua, insieme a Arcacola e a Zagaglia. Ragà, vi ricordate la prima volta che Cesare ci portò a lavorare con lui? E a cu... a cu... Quell'antico... Quell'antico... A via Archimede a Zagà così ci fanno notte. Lo so di... Eravamo pischielli, se siamo tutti a cacassotto. Scusi, don frate, c'è un senso figurato. Capitato, fa corto. Ce mancherà, c'è. Con te se ne è un grande artista morto sul lavoro. E il pinturicchio del piede del porco. Siamo stati insieme fino all'ultimo. Ma so sicuro che ora, lassù in cielo, ce troverà i miei padre seduto su una nuvoletta che te sta aspettando. E come te vede, già un nuovo figuro come te saluta. Ace, mortacci tua! Qua?